Il presidente Emiliano risponda sul mancato potenziamento dell'aeroporto del Salento che chiedo incessantemente da anni e anni, gli ultimi tre, come consigliere regionale. Interviene così Paolo Pagliaro, capogruppo, la Puglia domani, presidente del Movimento Regione Salento sulla questione voglio e collegamenti sbilanciati a vantaggio di Bari e scalo del Salento penalizzato. Oggi ritorniamo sull'argomento che riguarda l'aeroporto del Salento e la sperequazione, la differenza che c'è con quello di Bari per quanto riguarda i voli in arrivo, in partenza e in particolar modo quelli internazionali. Abbiamo inviato una interrogazione al presidente Emiliano e ci auguriamo che finalmente ci dia delle risposte chiare, definitive su che intenzione abbia rispetto al nostro aeroporto, rispetto a quello di Bari perché ormai da anni assistiamo a un depotenziamento costante e quotidiano che ha di fatto spostato i flussi turistici sul Bari e sul Barese rispetto al Salento. La nota diffusa da aeroporti di Puglia evidenzia un lieve incremento del traffico passeggeri a luglio scorso rispetto allo stesso mese di un anno fa, aggregando i dati di tutti gli scali pugliesi. Ma di fatto l'aeroporto salentino è in calo e a prescindere da questi dati che fotografano solo un mese, basta guardare il numero e le destinazioni dei voli per valutare l'impatto del trasporto aereo sul turismo che penalizza il Salento e dirotta i flussi nel Barese. Ma noi quando parliamo non parliamo così per dire, ma vogliamo analizzare i dati in maniera precisa e chiara. Dati alla mano, oggi ad esempio abbiamo fatto una verifica sul sito di aeroporti di Puglia e abbiamo notato questa disparità enorme che c'è tra i voli di Bari rispetto a quelli di Brindisi. Per la precisione, oggi abbiamo 72 voli in partenza di cui 40 internazionali da Bari, 72 voli in arrivo di cui 42 internazionali a Bari, mentre a Brindisi ne abbiamo 37 in arrivo in partenza di cui 11 internazionali. Quindi 72 contro i 37, 42 contro gli 11. Quindi si vede già in maniera chiara ed evidente una differenza enorme. Poi andiamo nello specifico in questo periodo con i collegamenti estemporani stagionari, così detti, e noi abbiamo ancora una volta dei dati che parlano chiaro. 75 sono i voli da Bari rispetto ai 37 di Brindisi, di cui 59 internazionali a Bari e solo 24 a Brindisi. È chiaro ed evidente che questa storia deve finire. Numeri che inquadrano nitidamente la scarsa operatività e attrattività dello scalo salentino rispetto a quello barese, ma non basta. Se è vero come è vero che il Salento rappresenta la meta turistica per eccellenza, il potenziale turistico del Salento è sicuramente sventolato in ogni occasione come se fosse una cartolina illustrata, poi bisogna dare seguito alle parole, alle dichiarazioni con i fatti. I fatti purtroppo ci confermano che c'è questa differenza enorme tra i voli a Brindisi rispetto a quelli in Imbaci. Noi registriamo ogni giorno lamentele delle vere arrabbiature da parte dei turisti e anche dei salentini che sono costretti a prendere l'aereo andando a Bari. Oltretutto si è anche verificato che i prezzi a Bari sono più convenienti rispetto a quelli di Brindisi, così come gli orari sono più comodi a Bari rispetto a quelli dell'aeroporto del Salento. È fin troppo evidente che su Brindisi non è stato fatto un adeguato lavoro di programmazione rispetto alla pressante domanda turistica nazionale ed internazionale. con un direttamento su Bari che penalizza il Salento. Chiediamo una volta per tutte delle risposte chiare. Il Presidente Milano quando vuole sa essere chiaro, bene, abbiamo fatto un'interrogazione, ci risponda e ci dica che intenzioni ha una volta per tutte nei confronti e nei riguardi del Salento rispetto a Bari. Il Presidente Milano è un'interrogazione, Grazie a tutti.